Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi voglio annunciarvi una nuova collaborazione con Ledmania Forse alcuni di voi già conosceranno questa impresa Che riguarda gli impianti di illuminazione del settore car, barche o casa Quindi diciamo l'impianto luce di qualsiasi cosa Quindi per inaugurare questa collaborazione voglio proporvi il loro kit di lucitarga Completamente fatto da loro Quindi tutte le lampadine sono fatte da loro, sono made in Italy E utilizzano led samsung Quindi non abbiamo lampadine cinesi scadenti con resistenze che sfarfallano e roba del genere Quindi ragazzi io direi intro e poi vi faccio vedere le nuove lampadine Allora ragazzi come potete ben vedere queste sono le classiche lampadine cinesi Quelle che troviamo al negozio cinese o al brico o roba del genere E questo è il risultato che abbiamo Ovvero i led sfarfalleranno in quanto il voltaggio non sarà ben calibrato rispetto a quello della macchina E questo fa che i led sfarfallino Per evitare questo problema di solito si fa uso di resistenze aggiuntive Le resistenze aggiuntive di cui parlo sono queste che avevo già presentato nel video scorso Però spesso queste resistenze non vanno bene perché non sono calibrate adeguatamente per questa lampadina specifica o per altre Quindi risolveremo il problema soltanto parzialmente Perché in alcuni momenti le lampadine continueranno a sfarfallare o comunque si bruceranno prima Per evitare ciò ledmania mi ha proposto questo kit Andiamo a vedere insieme Di queste due lampadine E andiamo a montarle e vediamo il risultato E andiamo a vedere insieme E andiamo a vedere insieme Sì queste sono le lampadine montate Possiamo notare sin da subito che la quantità di luce è maggiore rispetto alle lampadine cinesi che avevo prima La luce mi sembra molto più bianca rispetto alle altre Un colore molto più puro, molto più white rispetto a quelle cinesi E sono soddisfattissimo di questo kit Che possiamo trovare soltanto sul sito di ledmania Quindi ragazzi se volete queste lampadine scrivete a me che ve le procuro Con un bel buono sconto Quindi ci andate a guadagnare Costano un po' di più rispetto alle lampadine cinesi Ovvio però la qualità insomma la vedete Zero errori sul display Non si bruciano Avete la garanzia di due anni E potete stare veramente sicuri al 100% Detto ciò vi lascio tutti i link delle lampadine in descrizione Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi alla mia pagina Instagram Mitch Tuning Per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti